Bene Rick, puoi darci tre principi stoici che possono aiutarci nella vita? Allora, il primo principio fondamentale è cerca di usare in modo proficuo la tua sofferenza che sembra contraddittorio, ma come soffro? Dovrei scappare dalla sofferenza e invece no, lo stoicismo ti dice no dal momento che la sofferenza non può essere eliminata dalla vita e proveremo dolori, insicurezze, passioni negative in tantissimi momenti della vita allora devi capire cosa trarne, come usare quella sofferenza perché anche la sofferenza, anche il dolore, anche la perdita è un'energia che ci può far acquisire indizi su come siamo fatti quindi non scappare dalla sofferenza, usala a questo si connette un secondo principio che secondo me oggi è molto molto importante nell'epoca in cui tutti si offendono sempre lo stoico ti dice ricordati che nessuno può veramente ferirti ma a ferirti è la tua disposizione a dare importanza al modo con cui gli altri cercano di ferirti quindi prendi controllo su ciò che ti triggera, direbbero i giovani oggi prendi il controllo su ciò che ti offende e chiediti perché questa cosa mi ferisce se riesci a chiedertelo ti renderai conto che nessuno veramente può importi di sentirti ferito e tu puoi controllare meglio il modo in cui reagisci anche agli insulti anche alle cose peggiori e lo stoico è uno che veramente prende il controllo delle offese altrui e degli insulti e questo è meraviglioso e mi fa aggiungere un terzo principio che riunisce un po' i primi due quello di responsabilità personale oggi nella nostra crescita personale sentiamo spesso parlare di responsabilità di avere l'abilità a rispondere agli eventi e questo nasce proprio da te dal renderti conto che sei causa degli eventi che ti capitano e non effetto degli eventi che ti sono capitati dunque direi che riunisce tutti quanti insieme questi principi il sentirti responsabile di ciò che provi perché altrimenti diventi una banderuola in mezzo al mondo e al vento quindi il terzo principio l'hai detto tu io accetto che tu l'abbia detto, ne aggiungo un quarto, facciamo il quarto dai corrispondi alla tua propria natura questo è troppo complicato per oggi quindi magari lo discutiamo la prossima volta ma che diavolo ci fanno un filosofo ed uno psicologo assieme? beh ce lo siamo chiesti anche noi e per rispondere a questa domanda abbiamo creato la masterclass pillole di psicostoicismo e se vuoi guardarla gratuitamente puoi cliccare il link qui in basso ciao